Avevi detto che non era possibile? Non lo è ancora, ma questo potrebbe essere l'inizio per renderlo possibile. Come sei riuscito a capirlo? C'era un professore alla facoltà di medicina, lo chiamavamo BisProf. Lui era convinto che per essere sicuri di una cosa, bisognava arrivare alla stessa conclusione partendo dalle strade diverse. Sagace? Ecco, la prima volta che ho letto la ricerca sul vaccino, mi sembrava inconcludente. Poi però sono tornato indietro e sono partito da un altro punto. È lì che ho capito che l'idea era buona, deve essere solo migliorata. Se facessi vedere agli svedesi quello che ho capito, potremmo salvare milioni di vite. Pensi che loro non lo sappiano? Hanno l'idea giusta, ma guardano nella direzione sbagliata. Quindi tu sei l'unico che lo sa? Ah, penso proprio di sì. Capisci perché non posso fare quello che mi chiedi? Certo che lo capisco. Ma tu lo capisci cosa sarò obbligato a fare in quel caso?